Con la Coldiretti si può anche giocare, ma la cosa è seria però, Presidente Vasolo, è seria nel senso che il gioco intanto educativo, rivolto ai bambini per far capire ciò che nell'alimentazione va bene e ciò che non va bene, come ad esempio la frutta fuori stagione e quant'altro, perché per Coldiretti c'è sempre un obiettivo, quello di guardare al nostro territorio e ai nostri prodotti e ai nostri produttori salvaguardandole il più possibile da tutte queste influenze esterne che continuano a esserci. Sì, le influenze sono tante e se uno vuole dare una visione ottimista si copiano sempre le cose belle, non si copiano le cose brutte, però comunque nel copiare si genera un danno sia per le imprese e per le aziende agricole, per i produttori che fanno qualità e sono persone serie. Coldiretti, con questo gioco, comunque con i bambini, con i giovani, li vuole coinvolgere in un percorso educativo nel mangiare bene, perché l'Italia ha un patrimonio enorme, enogastronomico e i giovani sono il presente e il futuro e devono imparare che comunque mangiare bene vuol dire conoscere, vuol dire approfondire il territorio, vuol dire anche formarsi come palato e non omologarsi magari nei fast food, che ci sono questi cibi che sono molto speziati e quindi standardizzano e omologano il palato. Questa è una grande opportunità, come l'olio oliva, come vetrina per le imprese, nel far conoscere e nel promuovere i prodotti. Promuovere i prodotti appunto del territorio, c'è questa grande imitazione e voi già in altre occasioni avevate fatto vedere i prodotti imitati, le etichette che imitano, un po' come succede con i vestiti fasulli. Il vestito fasullo magari fa venire qualche irritazione alla pelle se la stoffa non è buona, se siamo fortunati, magari non succede neanche quello, quando il prodotto non è originale, intanto il danno è per quello stesso prodotto, perché se io mangio una taggiasca o il parmigiano, come avevate fatto vedere una volta, che non è, e sento un sapore che insomma non è quello giusto, posso rovinare il mercato in qualche modo. Sì, si rovina il mercato e sta sempre più diventando, pare addirittura dagli ultimi dati, che la contraffazione e la pirateria dei prodotti agroalimentari al mondo stia quasi sorpassando il business della droga. Questo vuol dire che c'è un bisogno di cibo a livello mondiale, ma comunque sia nello stesso tempo c'è una contraffazione che talune volte sfiora la follia, guardiamo quello che è successo dalla Cina con il latte, che c'era addirittura delle sostanze estremamente canterogene, il miele con gli antibiotici, la carne con gli antibiotici, gli OGM, insomma sono effettivamente delle contraffazioni e anche dei modi di lavorare a livello mondiale rispetto all'azienda agricola italiana che sono estremamente differenti perché in Italia, in Europa, ma in particolar modo in Italia c'è anche una sorta di regolamentazione molto restrittiva. E quando si mangiano prodotti che non sono del territorio, che non hanno un'etichettatura soprattutto, questo è anche importante, vorrei ricordare che è estremamente importante leggere l'etichetta e vedere se c'è scritto Made in Italy, altra battaglia di Coldiretti che siamo riusciti a vincere rispetto a prodotti che non hanno un'etichettatura e garanzia comunque quando è Made in Italy di qualità. E la qualità qui la possiamo trovare, soprattutto noi che abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove c'è ancora chi produce, chi coltiva, c'è un livello ritorno per fortuna alle campagne perché significa anche salvaguardare il territorio, in questo periodo ne sappiamo qualcosa. Sì, ne sappiamo qualcosa, questa è una battaglia che abbiamo iniziato 15 anni fa con la legge di orientamento cioè nell'andare a identificare l'azienda agricola come soggetto principale di animazione e di custodia del territorio. È ovvio che quando ci sono questi momenti, questi eventi calamitosi si pensa alle emergenze e quindi si mettono in atto quelle misure per garantire sicurezza ai cittadini e risoluzione dei problemi. Però vorrei ricordare che l'azienda agricola e queste emergenze si evitano con un lavoro costante e quotidiano. Noi abbiamo un territorio estremamente delicato, modificato dall'uomo, che le aziende agricole continuano a mantenere e a preservare. Un invito che faccio sicuramente è quello che se lanceremo a fronte di questi eventi come i Coldiretti nel prossimo anno è una grande condivisione insieme ai comuni della provincia di Imperia per coinvolgere in maniera più diretta, parlo di ruscellamento delle acque, pulizia dei ri e tutto quello che ne conviene con i comuni della provincia per un discorso a lungo termine perché l'azienda agricola può essere anche coinvolta quotidianamente nel prevenire questi eventi e perché comunque avere un'azienda agricola nel proprio territorio vuol dire avere una ricchezza enorme. Ricchezza enorme che va giustamente tutelata, ricchezza enorme che qui a Olio Oliva è ben esposta da tanti produttori che spiccano per il giallo di Coldiretti ma spiccano anche, non se ne voglia, soprattutto per quello che mettono sui banchi. Per l'olio, per il nostro oro giallo, le nostre olive, indubbiamente vediamo ancora stamattina dopo le difficoltà di sabato, oggi comunque appena è arrivato il sole la gente arriva perché vuole l'olio nuovo, vuole imparare, vuole ancora nel proprio cuore e nella propria voglia di comprare in azienda agricola perché comunque sa che comprare nell'azienda agricola di Coldiretti, nell'azienda agricola di Campania Amica di Coldiretti è comunque sintomi di garanzia e qualità. Ecco, diciamo che sul cibo è un argomento, il cibo sul quale non si possono fare molti compromessi è andare a cercare il risparmio per carità, è normale. Bisogna fare attenzione quando questo risparmio è così enorme, smaccato trovare un bel litro di extravergine a 3 euro, insomma ci deve far venire qualche sospetto o no? Sì, altro che sospetto, bisogna starne assolutamente alla larga ahimè l'olio extravergine è frutto anche di grandi promozioni perché comunque è un bene che deve essere acquistato come sono altri beni la pasta, la farina e il latte e quindi è un po' vittima di speculazioni nelle promozioni però comunque un buon extravergine non può, è inammissibile che costi quasi come l'acqua minerale o ancora di più che poco ci badiamo perché magari ci capita poco ma pensiamo all'olio della macchina noi tante volte quanto costa un olio minerale di motore che può arrivare a 12, 13, 18 euro che è un olio di sintesi chimica che costa pochissimo farlo ed è assurdo è assurdo che si creano queste incongruenze quindi un invito che facciamo è comprare in azienda agricola comprare nei mercati di Campania Amica e cercare il bolino di Campania Amica ma soprattutto non avere questa smagna nel risparmio nei prodotti, nei cibi, nell'alimentazione perché li ingeriamo è la nostra energia, il nostro carburante più mangiamo bene, più stiamo bene più mangiamo male, più cominciano i problemi assolutamente e poi parlando di Campania Amica troviamo anche tanti ortaggi, prodotti della terra oltretutto anche qui la convenienza c'è perché in fondo i prezzi fatti dai produttori di Campania Amica non sono assolutamente esagerati anzi spesso non sono neanche commisurati a quello che dovrebbe essere il pagare la loro fatica e l'impegno e i danni del maltempo cioè il rischio anche che c'è nella produzione Sì, soprattutto questo quello che molti magari non pensiamo ma tante volte tutti quanti nel senso che non è come produrre dell'insalato un pomodoro delle olive non è come fare un bullone cioè ci può essere una standardizzazione della qualità mettere in campo quelle tecniche corrette e giuste per coltivarle al meglio e che frutti al meglio ma si deve avere si fa anche conti tra le volte col tempo col clima e quindi c'è una grande percentuale di incertezza ecco perché alle volte magari c'è un prezzo più alto rispetto ad altri prodotti perché comunque sia bisogna far fronte anche a delle problematiche che è il tempo e che effettivamente è difficile anche combatterle C'è uno dei tanti problemi delle coltivazioni parlando dell'olio delle olive è quello della mosca e si sta cercando anche qui e lo sta facendo col diretti di fare anche delle lotte che rispettino il prodotto che non vadano poi a danneggiare il nostro oro giallo appunto che è il prodotto finale Sì un accanimento terapeutico nei confronti della mosca nel combattimento a nostro avviso non può avvenire cioè deve essere preventivo o comunque bisogna trovare delle soluzioni differenti rispetto all'attuale è ovvio che la stagione che stiamo incontrando è frutto comunque di un inverno molto caldo e che quindi ha generato delle quantità di mosche eccessive rispetto alla media quindi comunque è straordinaria la situazione ma ciò non toglie che col diretti già da diversi anni con l'867 e insieme a tanti produttori di olivicoli sta sperimentando delle prodotti differenti rispetto alla chimica che rispettano comunque la natura ma che al tempo stesso possono garantire al consumatore un prodotto sano e privo soprattutto di schifezze di pesticidi resti un attimo qui ma ad ora non si sposti io mi avvicino invece da questa parte e voglio farvi vedere questo cubo che è un urna in realtà vedete c'è un foro e si possono inserire le cartoline perché perché col diretti via olio oliva ha fatto anche questa campagna vinci la campagna campagna amica ovviamente perché una convenienza in più per comprare ai banchi di col diretti perché facendo degli acquisti si ottiene modo di partecipare a un concorso che dà come premi anche qualcosa di interessante è di gustoso vedi soggiorni in agriturismo vedi delle cene in agriturismo oppure cesti di prodotti questo perché i nostri agriturismi Fasolo sono un po' la culla gli agriturismi quelli veri quelli marchiati da col diretti sono un po' la culla dei prodotti ed è anche un po' un condividere la vita dei produttori è la prima linea diciamo è la prima linea è il front office dell'agricoltura è un cittadino consumatore che vuole incontrare la campagna è ovvio che è un'azienda agrituristica andare a mangiare in un'azienda agrituristica di campagna amica andare a dormire in un'azienda agrituristica di campagna amica è comunque il primo momento di incontro e soprattutto è vero di condivisione perché sia di fronte l'impegnatore agricolo si vive direttamente in campagna e quindi è una grande opportunità per iniziare a conoscere questo meraviglioso mondo che è la campagna e allora a questo punto non ci resta che dire che i dati li possiamo lanciare per fare il gioco di campagna amica educativo per i ragazzi ma non possiamo lanciare il dado alla monetina quando si tratta di scegliere sulla nostra salute mai assolutamente mai quindi rivolgo un invito forte guardate il logo di campagna amica osservatelo perché garanzie di qualità e andate a comprare nell'azienda agricola dell'azienda agricola di Coldiretti e andate a comprare